Gli diamo due scariche nella caviglia, adesso non va forti. Chi c'è nel teso? Chi c'è nel teso? Chi c'è nel teso? Chi c'è nel teso? Oh! Marcello! Marcello! C'era io ma sul posto, ancora stava 0-0. Questo ha fatto due bellissime parate. Mi piaciuto? Troppo alto. C'è chi è bassi e chi è troppo alto.